Ciao a tutti, oggi è il 29 marzo 2024, è venerdì. Allora, innanzitutto mi scuso perché è molto che non faccio video, da quando mi sono lasciato con la Veronica ho pochissimo tempo, faccio quello che posso, e oggi mi è venuto in mente, avevo un minuto, ho detto faccio un video e lo carico su YouTube per far vedere un po' la situazione dei lavori, eccetera. Allora, questa qui è la parte delle serrette, sono tre, trovate il video qui su YouTube, sul canale, di come le ho fatte, sono state fatte con materiale di recupero, con delle reti di letti saldate, con delle reti d'acciaio che avevo, rinforzate con dei tondini, perro, e poi di solito ci è stato messo dietro del plessigas, e poi di solito ci metto il telo, dietro hanno il telo, le ho rotolo sopra, d'inverno, ma adesso le temperature sono alte e le ho scoperte. Qui ci sono delle cipolle, che avevo seminate nei semi enzaico fatto io con materiale di recupero, e poi le ho ripichettate, queste qua sono piccole, quelle un po' più grossi le ho già messe a dimora, poi vi faccio vedere. Questi qui sono dei cardi, che mi hanno dato lo scambio di semi di Borgotà, una ragazza che abita nell'Interland di Milano, e li ho seminati anche questi nel semenzaio, questi li ho messi nella cella artificiale, poi vi faccio vedere, e poi li ho ripichettati qui, sono cardi, non so che varietà, queste qua sono altre cipolle, sempre seminate a novembre, credo, ottobre, novembre il semenzaio, adesso vi faccio vedere come era, e poi sono state ripichettate qui negli alveoli, e poi dopo le metto a dimora con il trapiantatore, adesso vi faccio vedere. Questi qua sono degli spinaci, che mi aveva dato la semenza a Filippo l'anno scorso, no, Andrea scusate, Andrea l'anno scorso, e li ho seminati, il semenzaio freddo, e poi li ho ripichettati, adesso li metterò a dimora anche se è un po' tardi, però più che altro per fare il seme, per avere la varietà. Qui ci sono altri cardi, che si vedono. Queste qua sono delle bietole da costa, che le avevo seminate in semenzaio e poi ripichettate. Questi qua sono altri spinaci, le altre bietole, quello lì ha un semenzaio che c'erano delle bietole emanate dall'insalata, e queste qua sono le cipolle come erano prima di essere ripichettate. Adesso magari ne ripichetto un altro centinaio, quando ho tempo, le ho seminate in questi qua, sono dei fusti di recupero, tagliati e forati, perché in un recupero dei fusti, diciamo, lungo la strada, che so dove li buttano, c'è un case edificio che li butta via, li lavo bene, poi col sotto ci faccio il sottovaso, con la parte sopra ci faccio le vaschette, perché sono belle robuste, e ci sta un sacco di terra, e ci vengono delle belle piantine. Poi, andiamo avanti, allora. Qua ho i scialici, li ho usati a legare le vite, allora ho potato già le viti a gennaio, a doppio guio, le ho legate con i scialici, sono state potate e legate. Sono fatti, sono nove filari, non so quante viti sono per filare, ma ce ne sono, ci ho messo a diverso tempo. Qua invece, in mezzo a questo, e a questo filare qui, ho passato la terra, la vigia di Natale, il giorno di Santo Stefano, li ho passati con l'alato rotativo, e poi ci sono passato con la zappatrice, una volta, e col trapiantatore ho messo a dimora, fino a quasi in fondo le insalate, che avevo messo il semenzaio a ottobre, poi le ho ripichettate, questa qua è la varietà che mi aveva dato Filippo, che ha di sua nonna, ha una varietà che ha degli anni, e poi qua ci ho messo le cipolle, col trapiantatore, è stato tutto messo col trapiantatore qua, li sono messi pian pianino, e si vedono le file, sono 50 metri, ce ne saranno 40, si vedono fino là, eccetera. Ok, di qui. Qua c'è le viti, poi va bene, le piante da frutto stanno fiorendo, poi ve le faccio vedere, e poi qua abbiamo i carciofi, i carciofi bianco di Pertosa, ho messo gli ovuli, adesso c'è un po' d'erba, ma stanno venendo belli, non sono gelati perché non è gelato tanto, ma hanno una varietà che dovrebbe resistere, e ce ne sono fino quasi in fondo, quelli in fondo hanno sofferto un po' perché c'è un po' di ristagno nitrico nella parte finale del filare, poi questo qua è un filare, che ho passato e basta, con l'altro rotativo, qui avevo i cavoli, che li ho raccolti, li ho mangiati, adesso stanno andando, questo qua è un cavolo rap, adesso lo dovevo raccogliere, non me ne ho neanche accorto, l'ho visto adesso che è capottato, e anche questo, non me ne ho neanche accorto, vedete, non ne avevo mai messi, adesso ho capito come erano, e qua c'erano delle verze, eccetera, poi, allora, qui invece, abbiamo, allora, questi sono cipollotti, sono cipolle, che avevo messo io l'anno scorso, che stavano andando in semenza, le ho messe a novembre, le ho messe qua, e dopo ci mangerò i cipollotti, adesso man mano li raccolgo, li taglio i cipollotti, questo qua è il Lione della Valdichiana, questa fila qua, allora, l'ho preso due anni fa, ne avevo presi, boh, mezzo chilo, che costa una fortuna, un chilo, non mi ricordo, forse mezzo chilo, l'anno scorso l'ho seminato, e non ne ho mangiato niente, questa è, e l'ho riseminato tutto, adesso ce ne sono, 30 metri tipo, sembra poro, ma è il Lione, lì ci sono dei cipollotti, sono molto belli questi, che dovrò mangiarli, adesso quando ho due secondi, me li taglio, me li mangio in insalata, vi faccio vedere insalata, che c'è una insalata bellissima, e questi qua, sempre cipollotti, al Lione, e qui ho messo delle insalate, in mezzo all'erba qua, le ho seminate a spaglio, tipo quando ho messo giù l'aglione, ne è venuto un sacco, e questa qua, è la Sant'Anna, si potrebbe già, quasi mangiare, adesso c'ho i radicchi, ancora da mangiare, però ci siamo quasi, questi qua sono, ah, questi qua invece, da qua invece, questi qua sono i cipollotti, però li lascerò da semenza, sono le cipolle più belle, che sono andate in semenza, più avanti diciamo, e quelle che avevo, le uso da seme, fino a qua, fino a qui, e poi, questi qua sono altri cipollotti, un po' di piante fiorite, il mandorlo già fiorito, il pesco in fiore, questi qua sono meli, devono ancora fiorire, ne ho un, questo qua cos'è? Questo qua è un susino, ma, credo che non farà fiori, qua abbiamo un pesco, abbiamo il mandorlo, il mandorlo, quest'anno, secondo me, non è ancora gelato, speriamo che non geli, che magari riesco a assaggiare, due mandorle, di questa pianta qua, là c'è un pesco, e poi ci sono tante altre piante, allora adesso andiamo avanti, poi, vedete qui si ferma l'acqua, perché è piovuto molto, poi, qui abbiamo, qui avevo le cime di rap, adesso stanno andando in semenza, e poi gli raccoglierò i semi, allora qui, invece, ci sono le fave, le ho seminate a metà novembre, sempre la semenza, l'avevo tenuta delle mie, e sta venendo molto belle, e ce n'è una fila, due file, da 50 metri, in mezzo avevo messo un po' di lattuga, che non sapevo dove metterla, le fave sono state seminate a postarelle, si vede, ogni quanta 50 cm, sono state messi 10 o 15 semi, una decina, e sono venute molto belle, e queste qui, si mangeranno a maggio circa, metà a fine maggio, stanno fiorendo, si vede bene, poi, ci sono i peri in fiore, si vedono bene, un alto pesco, lì, in fiore, le ciliegie non sono ancora fiorite, poi ci sono, il vento è una stesa un po' di fave, fa niente, poi, qua ci sono tutti i lamponi, i mertilli, i siberiani, poi ci sono i mertilli, hanno già fiorito, c'è il ribers, c'è l'uva spina, le ho tutti potate, ci ho pulito un po', le more le ho potate, adesso vi faccio vedere, l'altra parte, che è un po' più bella, questo qua è un susino, sta fiorendo, e ci sono tantissime piante, questo qua è un altro susino, questo qua è un pero, questo qua è abbondanza, ma non è ancora fiorito, quest'anno se non gela, ce n'è tanta di frutta, allora, vi faccio vedere un attimo, un po' qui, qua ho tutto potato, e ho tutto potato le more, c'è proprio il video, quando ho fatto il corso, le ho legate queste, qua c'ho gli asparagi, quelli spinosi, che devo raccoglierli, questa qua è con solida ibrida, che avevo messo un po' dappertutto, e questi qua sono i lamponi, stanno ributtando, i kiwi, stanno buttando fuori le foglie, speriamo che non gela, sempre, e queste qua sono le more, e sì, questa qui è la prima parte dell'orto, qua c'ho della calendula, che bella, e ho messo delle nocciole qui, qualche nocciola, non sapevo cosa metterci qua, che mi si è liberato, e questo qua è un bioricoccolo, e passiamo all'altra parte dell'orto, allora, qui siamo nel semenzaio artificiale, è praticamente una cassa, fatta di polistirene, io l'ho rinforzata con dei pezzi di compensato che avevo, non so se si riesce a vedere, delle assi, poi ho fatto un quadretto, con un timer cinese, preso su Aliexpress, che mi gestisce l'accensione, lo spegnimento delle lampadine, gli orari, praticamente, stacciono circa 16 ore, si accende tipo alle 4 di mattina, si spegne, non mi ricordo, alle 8 di sera, e poi ci ho fatto tutti i vari interruttori, per le varie lampadine, ci ho messo un salvavita, vabbè, così, proprio per metterci, che ce l'avevo vecchio, e poi c'è un timer, che è un termostato, che gestisce, in pratica, la temperatura, se supera, non mi ricordo, tipo i 30 gradi, o 32, spegne tutto, perché che non si scaldi troppo, e poi, vabbè, nella versione, all'inizio ho fatto un Arduino, ci ho montato un Arduino, con un sensore di temperatura, una ventola, qua, ma quest'anno non l'ho usato, perché tanto non serve niente, allora, l'importante è, e poi ho montato anche una resistenza, se ve la faccio vedere, l'importante è che la temperatura, stia sui 26, 27, adesso 23, 3, perché l'ho aperto, prima per annaffiare, e poi avevo messo, una resistenza, di quelle da birra arancioni, quella lì che vedete, che serve, che serve per scaldare, ma, non la sto usando, già il calore delle lampadine, quando sono accese tutte, che sono 3, 6, 8, adesso le guardiamo, basta per scaldare, è molto semplice, c'è un tubo da, mezzo pollice, zincato, dove ho fatto, al tornio, delle boccole, con un buloncino filettate, con un, un porta lampada, una lampadina, e, le posso regolare in altezza, in base alle mie esigenze, perché, perché con questa clip qua, bellissima, che non è tanto che un tubo dell'aria, tagliato, posso abbassare, basta che la muovo, e poi, scendo, o aumento, l'altezza della lampadina, in base all'altezza, di quello che c'è sotto, e, e, vi faccio vedere un po' cosa, allora, quello lì è prezzemolo, seminato tipo, mi sa il 2 di febbraio, con i pomodori, le melanzane, i pomodori sono molto belli, e, le melanzane sono, questi qua sono peperoni, sono rimasti più piccolini, perciare messi un po' più venire fuori, questi qua sono tutti i pomodori, tipo 5, 6 varietà, quelli sono cardi, perché li ho fatti nascere qua, e poi, li ho messi giù in sera, come avete visto, in sera fredda, però, li ho tenuti un po' qui, perché ho detto, se le rumacche me li mangiano fuori, almeno ne salvo qualcuno, e, sopra il tetro, l'ho diviso in 7 parti, in modo che così, in base a quello che devo fare, sposto, tiro via, eccetera, questi sono tutti i pomodori, sotto ci sono dei sottovasi, che ho fatto tagliando, delle latte, come vi dicevo prima, le annaffio, con tipo una teiera, grande, inox, perché ce l'avevo qua, che non usavo, li tengo bagnati, non andrebbero bagnati, le foglie, andrebbero bagnate le radici, e basta, ma si fa come si può, ok, allora qua ci sono, ah questo qua è un caiote, lo zucchino spinoso, me l'ha dato, me l'ha dato Giorgio, allo scambio semi, a Fornovo di Taro, sta crescendo, l'ho messo in un vaso grosso, poi dopo quando, quando metto giù gli zucchini, lo metto in terra, adesso lo faccio girare un po', così cresce, si radica bene, e poi qua abbiamo le melanzane, che ho messo molto, le ho messe prima in un vasetto, tutte insieme, poi le ho tutte ripicchettate, queste qua, questi qua sono zucchini, le ho seminati prima, questi qua sono trombetta, zucche trombetta, e questi qua sono la Delica, che mi ha dato una ragazza, sempre di Milano, allo scambio semi a Borgotaro, e questi qua sono altri peperoni, e melanzane ve l'ho già dette, e vi faccio rivedere un po' come è fatta, sarà circa due metri, larghezza, non mi ricordo se è tipo 40, interno, comunque se a qualcuno la vuole fare, mi scrive o su Telegram, o nei commenti, gli dirò il progetto, che c'è un progetto in pdf, che se qualcuno vuole copiare, lo può fare, il progetto che ho, e l'aveva studiato Maurizio Lunardon, è molto più semplificato di questo, praticamente è bloccato con degli stuzzicadenti, perché uno lo può smontare, se non la usa d'estate, cioè finito l'utilizzo, uno la smonta, invece lo lascio montato qua tutto l'anno, tanto c'è un spazio, quindi l'ho fatta bella, bella e robusta, poi l'ho fatta super mega regolabile, grande, e ho cercato di fare una cosa, da farci stare tanta roba, perché di piantine ne faccio tante, l'importante è che, non sia ermetica, infatti quando la chiudo, ci metto sempre, quel pezzo di polistirolo qua così, il coperchio, tipo così, in modo che esca un po' di, di umidità, che sennò diventa troppo, è troppo umida, i funghi fanno un sacco di danni, e nient'altro, spero che il progetto vi sia chiaro, se qualcuno lo vuole copiare, come dicevo prima, scrivetemi, nel caso che vi mando tutto il progetto in pdf, che lo potete copiare, ok? Allora, questa è la parte dell'insalate, qui ho messo a dimora, sempre col trapiantatore, sono piantine, sempre che ho fatto da seme, in semenzaio, oppure ripicchettate, e poi le ho messe col trapiantatore, a 30-40 cm, c'è un po' di erbace da togliere, e principalmente la sant'anna, che è questa, poi c'è qualcosa tipo canasta, sant'anna c'è magari, c'è ilbridata un po' più chiara, ilbridata un po' più scura, e poi c'è, sì, un po' di canasta, diciamo, in mezzo, e ce n'è tante piantine, qua c'è ancora i topinambu, li sto mangiando, li sto mangiando pian pianino, adesso qua se ne, qua se ne vede qualcuno, un po' me li hanno mangiati, le arricole, tipo questo, un po' li ho mangiati, un po' li ho scambiati, nel senso, li ho portati scambi, i semi, e qui invece, ho le cipolle, queste qua me le ha date Stefano, che le ha seminate, lui il 15 d'agosto, gli avevo dato io il seme, grazie Stefano, per la premura, e poi le ho messe, col trapiantatore, le ho messe di mano, ma erano molto belle, cioè, già quando le ho messe, erano molto molto belle, ci faremo una pasta asciutta, con Stefano e Dario, qua c'è della taterra, che ho passato sempre, il giorno di Santo Stefano, qui, che è pronta, adesso la devo zappare, e qua adesso, credo che ci metterò i pomodori, la ci metterò i zucchini, questo qua è un pesco, è bellissimo, veramente bello, questi qua ci sono dei susini, ma hanno ancora un sacco di gemme a legno, non faranno fiori quest'anno, là ce n'è uno che qualcosa sta facendo, non lo ho ancora mangiate, questo qua è un altro susino, che viene maturo a fine agosto, questi qua sono le albicocche, però la moniglia le ha stese molto, qualcosa c'è, ce n'è uno qua, il moniglia è un fungo che crea dei danni, quest'anno c'è stata molta umidità, qua ce n'è una, ce ne saranno pochi dalbicocche, però qualcosina magari, sì, ma non è una bella cera, ha preso, ha colpito forte quest'anno, si vede bene, questo qua, questo qua invece, questo qua, questo qua tipo è fiorito, si vede appena dopo, guardate cosa ne ha legate, e ha avuto meno problemi con la moniglia, si vede proprio i fiori massacrati qua, e qua invece, adesso vediamo, se qualcosina viene, e questo qua, qua tipo ci sono, si vedono, le bicocchine, ma ne fa anche troppe, questo qua è una pianta piccola, qua c'è un emore copotato, qui c'è della rucola, che uso da seme, qua ci devo zappare, perché c'avevo un sacco di erbette qua, che devo raccogliere, tipo queste, e adesso queste qua, sono nate dalla semenza, perché qua c'avevo tutte le erbette da seme, l'anno scorso, ci sono le apie, e poi abbiamo un sacco di radicchi, di radicchi da taglio, perché qui l'anno scorso, c'era il frumento due anni fa, l'anno scorso ci abbiamo fatto il prato di erba america, il prato stabile, e li ho seminati con la bassi, con la seminatrice, e ce ne sono un'esagerazione di radicchi, adesso sono avanti, però si vedono un po' più le file, e questi qua, li stiamo mangiando, li sto mangiando pian pianino, anche mia mamma, li raccogliamo, qua le lepre che viene a mangiare, un capriolo, e li tagliamo belli sottili, quando li tagliamo stiamo appena alti, in modo che così ricacciano, e poi vengono lavati con la centrifuga, li metto in frigo, e poi man mano me li mangio, ma sono quattro mesi che li mangio due volte al giorno, e ne mangio tanti, adesso si sono diventati vecchi, qua si vede il taglio tipo, stanno proprio crescendo molto, e ce n'è fino là in fondo, qui, e poi ce li ho anche là, ne ho veramente tanti, e nient'altro, qui ho delle piante, guardiamo un po' come sono messe, ma non so neanche se sono fioriti questi, non ci ho guardato, questo qua è un mandorlo, e poi là c'ho del nocciole, c'ho del frusino, questo qua è un cachi, questo qua è un cachi che non ho innestato, e questo qua invece è stato innestato, l'anno scorso, e questo qua è ide, si vede ancora l'innesto, e niente, nient'altro, io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, ringrazio Graziano, che si sta dando un sacco da fare, sul canale Telegram, che abbiamo del progetto, sta postando veramente un sacco, lo ringrazio per quello che sta facendo, e lo saluto, e poi se qualcosa non vi è chiaro, di quello che vi ho detto, potete scrivermi su Telegram, metterò i miei contatti, sotto la descrizione, o altrimenti potete scrivermi nei commenti, e se volete informazioni, sul trapiantatore, sulle serrette, sulle semine, su come ho fatto, certe cose che avete visto, scrivete nei commenti su Telegram, che discutiamo volentieri, va bene, vi ringrazio, vi saluto, e alla prossima, ciao, ciao, ciao.